ciao bambini io sono alex ciao alex guarda cosa abbiamo oggi lego si lego di country farm no lego duplo va bene lego duplo va bene allora vogliamo costruire qualcosa ok cerchiamo di aprire questa scatola tu sai come si apre alex o ecco qui allora piano piano guarda quanti pezzi alex ci sono maschine hai visto guarda questo verde questo blu e questo rosso ok le mettiamo qui sopra intanto no così no ok togli tutto costruiremo una casa vogliamo costruire una casa aiuto aiuto aspetta questo qui vuole ammettere un altro uguale dobbiamo cercare un altro uguale allora dai cerchiamo un altro uguale eccolo bravissimo metterlo qui alex sì bravissimo bravissimo questa è la nostra porta vero del garage facciamo un garage ok dobbiamo mettere un altro uguale a questo bravo ecco bravissimo ma no io li sto solo togliendo non ti preoccupare bravo mettilo qui ok adesso qui ci serve uno più piccolo tipo così ok trovale un altro qui da mettere bravo mettilo qui ok adesso costruisci bravissimo tu si che sei bravo vero ok costruiamo tutte le mura vogliamo costruire le mura allora dai costruiamo tutte le mura troviamo tutti i pezzi così bravo alex li mettiamo insieme è così no qui 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 bravo adesso questo verde e vedi però non ci siamo dobbiamo mettere un altro quadrato questo qui qua bravo che bella casa colorata vero ti piace alex come sta venendo lo il nostro garage io piace il garage e poi ancora i due macchine uno qui uno qui oh vedi le mettiamo li facciamo lì dopo bravo costruisci continuiamo a usiamo questi no ah questi qua quadrati piccolini bravo ti aiuto posso aiutarti bravo anche qui ci va una no 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 eh ma vedi che poi sforiamo qui dobbiamo mettere ancora una piccolina qui bravo e anche qui ci vuole ci vuole una piccolina questa mettiamo questo ok mettiamo adesso questa verde e ancora un'altra qui sono metti questi sottili qui bravo e tutta la fila di questi più bravissimo alex alexis 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 Grazie a tutti. 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 Oh, facciamo vedere la bella casa che abbiamo costruito, lo spazio per il cavalluccio e le nostre macchine, vero Ale? Salutiamo i bambini? Ciao. Ciao.